Allora, sono Alberto Auricchio, cittadino di Lucera, della provincia di Foggia. Vuoi lasciare un messaggio? E niente, io mi auguro che il Presidente possa veramente cambiare le sorti della provincia di Foggia e pulire innanzitutto la vecchia politica, come abbiamo fatto noi su Lucera, e sposare le cause prioritarie. Assessore, buonasera. In tutto e per tutto. Anche a voi.